Musica Finitura di Biagio Conte, murale, spi qua, domani fa un mese che è morto, manca la messa. Guarda, lo sperone. La lavorazione murale, si, il Biagio Conte è qui allo Sperone. Qua siamo allo Sperone, va bene, qua siamo allo Sperone. Faccio vedere, faccio i preparativi, preparativi qua domani fa un mese. Guardate, grandi preparativi qua allo Sperone per Biagio Conte. Sono Sperone, faccio vedere sempre il murale di Biagio Conte. Grande lavoro per Biagio Conte, se lo merita, se lo merita. Sperto che faccio per i momenti. Mi piace, mi piace. Guarda. Allo Sperone, stanno volendo tutto, tutto domani è qui, allo Sperone, Santa Messa per Biagio Conte. Allo Sperone, stanno volendo tutto, tutto domani è qui, allo Sperone, Santa Messa per Biagio Conte. Chiudo per chi ho da fare, va bene. Una buona giornata qui. Da Palermo. Vediamo come si chiude. Come si chiude. Allo Sperone. Iscriviti al Xenografa donario. Sei chiesto 9. Grazie a tutti.